ben tornati a buongiorno verona live sono le 12 e 49 minuti siamo in diretta sul canale 640 del digitale sulla nostra pagina facebook io sono giorgia preti e qui con me c'è nicola rotta del badminton di polisportiva caselle benvenuto buongiorno allora nicola è bello averti qui oggi parliamo di uno sport di cui non si parla molto spesso e quindi è sempre bello insomma portare in trasmissione realtà di questo genere oggi parliamo di badminton ma prima partirei un po' da te perché al di là del badminton mi hai detto fuori camera che praticamente hai fatto qualsiasi sport possibile immaginabile nei praticati qualsiasi mi sono difessi dai ho fatto un po di tutto nella mia esperienza sia sportiva che poi professionale in educazione fisica per cui è sempre un ambiente che mi ha permesso di esprimere quello che riusciva a fare mi ha sempre incuriosito e soprattutto poi a livello professionale meno incuriosito tutte quelle realtà che erano un po sconosciute quindi ho potuto ho conosciuto il badminton come dicevo prima una quindicina di anni fa ricercando qualcosina di nuovo per la scuola e poi insomma mi ha affascinato sono sono rimasto all'interno di questo ambiente quindi insomma ti sei avvicinato un po per caso al badminton si cercavo appunto qualcosa di nuovo da proporre nella scuola ho avuto modo di fare un corso di aggiornamento che mi ha appunto entusiasmato e poi lì ho fatto un po tutto il percorso da atleta nel senso divertendosi giocare partecipando al tornei con qualche soddisfazione ogni tanto e anche soprattutto il percorso allenatori e anche formatore allenatori per essere comunque sempre più pronto nell'insegnare questa disciplina ecco di quanti anni fa parliamo quindi da quant'è che pratici il badminton diciamo dal 2006 2007 ah beh però quindi insomma parecchio parecchio tempo diciamo che è sì ecco e nicola per quanto riguarda questo sport è uno sport che tra l'altro qua hai portato anche la racchetta e il volano che mi raccomando non è quello di plastica che siamo abituati a vedere quando giochiamo in spiaggia quando noi comuni mortali giochiamo in spiaggia ma è correggimi se sbaglio fatto di piume d'oca sì questo è fatto di 16 piume d'oca questo è quello ufficiale che si usa nei tornei ha una traiettoria molto elegante insomma molto intrigante l'unica roba che con delle botte che prende 300 400 chilometri all'ora si rovina facilmente per cui nei tornei si sostituisce invece a scuola si usano quelli di plastica durano di più e costano un po di meno effettivamente immaginiamo che la spesa non sia non sia proprio da nulla ecco quindi uno sport dicevamo che noi comuni mortali siamo abituati magari che ne so a giocare a praticarlo magari in spiaggia al campeggio insomma così con gli amici in realtà è uno sport pazzesco a tutti gli effetti uno sport al cento per cento sì direi che esatto l'idea che abbiamo soprattutto in italia del badminton è quella del volano c'è il gioco in spiaggia si cerca di di fare mantenendo in aria questo questo volano in realtà il badminton si gioca all'interno con una rete alta un metro metro e mezzo circa e la bellezza di questo di questo sport è che è molto inclusivo nel senso che si gioca sia maschietti come maschietti femminucce in misto con le persone con disabilità chiaramente con qualche accorgimento ed è veramente tosto da un punto di vista atletico perché sono 20 30 minuti di partita in cui salti scatti un lavoro anaerobico abbastanza intenso sì direi che adesso qua stiamo a questo punto di vista a alto livello chiaramente a basso livello diventa meno meno di impatto e facilmente fruibile da tanti da tutti ecco vediamo anche il campo che chiaramente ricorda un po quello del tennis però molto un po più piccolo ecco diciamo però si vede si vedono i ritmi molto molto serrati cioè dei ritmi alti comunque chiaramente qua stiamo vedendo una partita i professionisti però sono ritmi molto serrati certo diciamo che appunto l'impatto l'impatto fisico a certi livelli diventa molto molto intenso soprattutto perché rispetto ad altri sport ci sono poche pause una volta che casca il volano il volano è lì e si ricomincia a giocare il recupero è molto è molto inferiore insomma è però uno sport molto molto interessante che sicuramente immagino piaccia molto anche i tuoi studenti ma sicuramente sì direi che è sempre una proposta allentante chiaramente è una parte del lavoro che facciamo a scuola però evidentemente la come dicevo prima la possibilità di far conoscere la scuola cose e diciamo sistemi di muoversi di mettersi in gioco nuovi è sempre affascinante chiaramente poi anche questo diventa competitivo tra virgolette quindi prende questo sprint in più rispetto appunto che al solo a tenerlo a tenere a tenere in alto insomma certo ecco adesso ovviamente passiamo alla polisportiva caselle perché tu fai l'istruttore proprio lì alla insomma la polisportiva caselle con il badminton caselle team ecco come sta andando questo questo anno come è andato anche quello passato chiaramente sappiamo con la pandemia che ha fatto disastri in tutti i settori sì noi beh già i nostri numeri sono numeri da tra virgolette sporti minore che è un bruttissimo termine ma non è altro solo che attività meno conosciuta minore sicuramente dal punto di vista di di qualità e noi siamo abbiamo viaggiato a livelli diciamo come risultati sportivi per un bel po di anni alti livelli nel senso che ragazzi che l'hanno conosciuto lo sport alle medie poi hanno continuato ad allenarsi quasi tutti quasi sempre hanno partecipato i campionati italiani italiani under quindi diciamo che hanno trovato un bello sbocco purtroppo è combinata la discorso pandemico quindi con la chiusura della nostra attività col fatto che molti ragazzi arrivati ad una certa età che so chi va a lavorare chi va all'università si sono spostati e abbiamo avuto e stiamo avendo un pochino un po di di buco tra virgolette generazionale nella nella partecipazione adesso abbiamo una decina di ragazzi e a caselle c'è anche un gruppetto di di adulti che si divertono a mettersi in gioco ancora ecco però i numeri attualmente siamo siamo ripartendo diciamo che la ripartenza anche per noi da questo punto di vista e beh questo l'importante alla fine perché l'importante ripartire poi insomma i numeri poi arriveranno arriveranno col tempo e ecco anche è uno sport quindi che si può iniziare anche a giocare magari in un'età adulta quindi senza tanti problemi assolutamente sì come come tutti gli sport alla fine quello che uno riesce ad aggiungere dipende sempre dal proprio già vissuto motorio più aggiungendo la possibilità di allenarsi quindi chiunque sia in grado di tenere in mano la racchetta di muoversi di saltare e di lanciare sono le caratteristiche che permettono di di apprendere poi in base ripeto alla propria capacità motore essere in grado di implementare queste queste proprie performance certo ecco e quindi adesso se ci fosse qualcuno magari interessato qualche spettatore può chiamarvi può ancora fare qualche prova magari vedere sì assolutamente sì c'è una pagina facebook della del badminton team e noi ci troviamo due volte alla settimana e i contatti sono quelli sono 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 i miei per cui si può venire a provare tranquillamente senza nessun problema senza nessun vincolo non serve neanche il materiale perché racchette volano fornite vogliamo tutto noi allora perfetto allora insomma noi invitiamo tutti gli spettatori insomma gli ascoltatori a magari contattare se siete interessati e provare questo questo sport in un modo nuovo viverlo in un modo diverso da come di solito lo si è sempre vissuto qui in italia quindi in modo non proprio appropriato ecco se possiamo dire così Nicola io ti ringrazio per essere stato mio ospite oggi è stato un piacere in bocca al lupo davvero viva il lupo benissimo allora adesso spazio alla musica e al gr locale e ne torniamo tra poco